Una manifestazione ricordando i tempi che furono, ma con lo sguardo verso il futuro. Così il parco della Muzzibetti si apre alla cittadinanza. Una giornata, quella di sabato, interamente dedicata a questa struttura, che è stata per decenni un vero e proprio punto di riferimento per tutti i tifernati. Una sorta di casa dove andare per dare un caldo abbraccio agli anziani, soprattutto malati, e adesso cambiano i tempi, ma i vertici vogliono far sì che i cittadini della Muzzibetti si tornino ovviamente e virtualmente ad abbracciare. Sabato 4 apriremo le porte del parco della Muzzibetti e la città. Sta coinvolgendo le societarionali della nostra città, le proloco, le quali hanno aderito con piacere ed entusiasmo, le quali offriranno, quindi ci hanno offerto tutta la loro professionalità, mettendo a disposizione le loro cucine e quindi potremo venire qui, mangiare, bere, stare in compagnia anche con i nostri ospiti. Ci sarà l'animazione del Baby Circus e anche grazie al contributo della cooperativa La Rondine, assolutamente che anche loro offriranno uno stand di Maccarello e anche loro l'animazione. Poi ci saranno gli amici della Pallacanestro e ci sarà la musica dal vivo, quindi ci sarà un DJ set, ci saranno i Paguro Bernardo e la scuola di danza Academy Ballet. Il tutto per allietare questa giornata e offrire una bella giornata ai nostri ospiti e condividere insieme alla città la bellezza del nostro parco. Grazie.